Non si poteva chiudere questo spettacolo senza la mia presenza, dico questo perché ci tenevo molto, dopo tutto quello che è stato detto, la gente un po' confusa e allora bisognava venire qui e dare questa testimonianza a tutti quelli che ci hanno sempre amati, che ci hanno sempre seguito, che ci hanno sempre sostenuti e che siete voi.